Buonasera, buonasera e ben ritrovati con Rai Lega Pro, la casa della Lega Pro e io allora vado subito a presentare gli host. Buonasera Paolo. Ciao Riana, buonasera a tutti i nostri telespettatori. E sei in compagnia di un direttore generale molto importante, di una squadra che sta facendo veramente meraviglie, direttore generale della Virtus Entella Matteo Matteazzi che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Buonasera a tutti. Siete direttori impegnatissimi in questo periodo con il mercato, come lei ha dichiarato dopo aver presentato Matteo Guazzo il mercato in entrata dell'Entella per ora è chiuso. Si confermo il mercato dell'Entella in entrata è chiuso, quindi siamo un po' più tranquilli in questi giorni. Ma colte come dicevi tu alla vittoria a Venezia dell'Entella, termine tra l'altro di una partita straordinaria perché il Venezia stesso al di là di risultato ha giocato veramente una partita perfetta contro la prima della classe. La Pro Vercelli continua a non mollare, ricordiamo che sono le uniche due squadre imbattute di questo girone e nei professionisti. Molto bene anche la Pro Patria che ha battuto un Coriaceo Savona e il Vicenza che ha dato quattro gol alla Cararese. Quindi credo che ci sono state anche in questa giornata grandi conferme e squadre che sicuramente sfrutteranno il mercato di gennaio per rinforzarsi ulteriormente. Per quanto riguarda la classifica lo chiedo proprio al direttore generale della Virtus Entella Matteo Matteazzi. Siete tranquilli o comunque continua questo botto e risposta con la Pro Vercelli? Beh si profita a noi e la Pro Vercelli. Non avete paura di una rimonta alle spalle? Ma sicuramente Cremonese e Vicenza hanno una rosa di giocatori che gli può permettere di fare grandi risultati anche di vincere quasi tutte le partite. Sicuramente devono sbagliare molto poco per cercare di riagganciarsi a Entella e Pro Vercelli. Però sicuramente sono formazioni estremamente forti e quindi la possibilità che rientrino c'è. Paolo, vogliamo andare ad analizzare la partita proprio Venezia Virtus Entella, raccontarcela perché è stata una partita straordinaria. Tra l'altro leggevo anche sulla rassegna stampa che c'è stata grande festa poi a Chiavari dopo il successo dell'Entella. Quindi c'è grande entusiasmo anche Paolo a te per commentare le immagini che ti mandiamo noi qui da Roma con la nostra regista Laura Voce. Sì Arianna, sicuramente entusiasmo dovuto al primo posto in classifica, una squadra da record questa che è stata costruita ottimamente su già una buonissima base della passata stagione. L'anno scorso l'Entella forse giocava in un modo più spregiudicato, più spettacolare, quest'anno è molto più concreta, lo fa sfruttando molto bene soprattutto la sua difesa, difesa composta da quattro giocatori con due centrali, soprattutto Cesar, grande esperienza che comanda senza grossi problemi il reparto. Qua possiamo vedere il gol di Marchi, molto bravo col suo sinistro. Qua la seconda rete di Moreo che ha chiuso sostanzialmente la partita. Ti dicevo una partita molto equilibrata, il Venezia credo che nel discorso avrebbe vinto contro qualsiasi altro avversario. Peccato che si è trovato di fronte un'Entella che davvero ha giocato molto molto bene. Una squadra che ha grandissimo equilibrio, davanti a grande qualità, a centrocampo soprattutto il perno centrale Volpe ha disputato un'ottima partita e io credo soprattutto dopo gli innesti del mercato di gennaio che questa squadra si sia rinforzata e qualora dovesse guadagnare la categoria superiore l'anno prossimo sono convinto che è una squadra che può già comunque comportarsi bene anche in Serie B. Il merito va all'allenatore Prina che mi ha dato grande continuità di risultati di gioco e credo anche alla società, il presidente settimana scorsa ha fatto i complimenti sia a Matteo sia allo stesso direttore sportivo superi, hanno già comunque dichiarato di chiudere in entrata il mercato a dieci giorni dalla fine quando ancora la maggior parte delle squadre, soprattutto quelle che sono dietro, stanno cercando di ultimare alcuni colpi. Credo che giocare d'anticipo sia molto importante e i risultati non sono mai casuali. Ecco, io poi voglio chiedere anche al direttore generale David Santella. Il segreto di quest'Antella è tra l'altro la squadra che ha preso meno gol in assoluto, solamente otto gol. Il vostro portiere Paroni ha portato a 621 minuti di imbattibilità, quindi è una società, veramente una squadra che lavora come gruppo compatto davanti e dietro. Sì, sicuramente verso la fine del generale d'andata quando ci siamo resi conto di essere un po' stanchi perché abbiamo fatto una serie di partite veramente straordinarie, ci sono mancate un po' di risorse nella parte offensiva per l'infortunio di Daniele Rosso. l'allenatore ha cercato di dare un grande equilibrio difensivo, questo ci ha portato nelle ultime partite a non prendere gol. Adesso siamo ripartiti con un nuovo piglio e anche in fase d'attacco, quindi l'unione della compattezza difensiva insieme alla capacità di produrre gioco che è sempre stata una caratteristica fondamentale dell'Entella e delle squadre in generale di Prina. L'unione tra questi due fattori può essere sicuramente l'arma vincente. Ed è un'arma vincente senza dubbio quella che stiamo vedendo, l'Entella, noi lo continuiamo a dire, non è più una sorpresa Mario? No, non è più una sorpresa, non l'era neanche l'anno scorso, io ho visto la prima partita di play-off, l'anno scorso mi è sembrata una squadra timida, cosa che adesso non credo perché è una squadra di grande personalità. Forse appunto l'esperienza dell'anno scorso ha fatto sì che questa squadra stia veramente facendo buona, bella, bellissima, bella figura nel suo girone. Benvengano queste squadre che hanno dietro un'organizzazione perfetta e appunto un lavoro che si proietta poi nel prossimo futuro. Allora, andiamo a sentire proprio cosa pensa della sua squadra. Il capitano dell'Entella a Gennaro Volpe, lo ha intervistato il nostro Angelo Oliveto. Gennaro Volpe, capitano dell'Entella, Entella in testa alla classifica, è l'anno giusto per la promozione in Serie B? Il cammino è ancora lungo, però per ora abbiamo fatto un cammino importante, ci sono tutte le condizioni per poter arrivare fino alla fine in questa posizione di classifica. Noi tutti naturalmente ci auguriamo di sì. Chi teme in particolare Volpe? Credo soprattutto alla Provercelli, visto che è a ridosso della nostra posizione di classifica, però credo che ci siano tante squadre che anche se hanno perso terreno sono squadre importanti, mi riferisco al Venezia stesso, alla Cremonese, al Vicenza, quindi il pericolo è sempre detto l'angolo e sappiamo bene che il calcio dà sempre numerose sorprese, quindi bisogna sempre stare sul pezzo e lavorare e pensare partita per partita. E la stagione della riforma in Lega Pro, secondo lei che campionato abbiamo visto finora? Tutti si aspettavano un campionato mediocre, però credo che in effetti alla fine tutti giocano per vincere, nessuno scende in campo per perdere o comunque per fare figuracce. Abbiamo visto che ci sono comunque soprattutto tantissimi giovani che un po' questa riforma richiedevano, però credo che alla fine sia un campionato competitivo e insomma le partite fin qui disputate lo dimostrano ampiamente. Volpe concluderà la sua carriera con l'Entela? Sono qui da tre anni, ho avuto la fortuna di fare tanti anni in B, in cuor mio spero di vincere innanzitutto questo campionato e perché no, chiudere la carriera naturalmente qui. Me lo auguro vivamente. In bocca al lupo. Crepe in lupo, grazie. Direttore, penso sia anche bello vedere un giocatore che è soddisfatto di giocare in questa squadra, che vuole chiudere la carriera nella vostra società. Tra l'altro oggi sentivo anche Matteo Guaccio che è rimasto assolutamente sorpreso ed è contentissimo di essere arrivato da voi. Certo troverà una situazione completamente diversa perché la piazza del sud, poi lui ha giocato a Salerno per tanto tempo, sono diverse. Sì, ma per quanto riguarda Gennaro Volpe sicuramente incarna un po' lo spirito dell'Entela. è un giocatore che non molla mai, che si è ambientato in maniera splendida a Chiavari, aiuta molto i giovani e è il nostro capitano in assoluto. Per quanto riguarda Guaccio, anche noi siamo curiosi di vedere come si ambienterà, si adatterà in un contesto diverso come quello di Chiavari. Troverà un gruppo determinato a centrare l'obiettivo. Io sono convinto che lui possa inserirsi al meglio e dare qualcosa di più rispetto a quello che ha dato fino adesso nella sua carriera. Abbiamo cercato un giocatore che potesse aspirare a migliorarsi e a completare la sua formazione a Chiavari, il suo percorso professionale a Chiavari. Io penso che Guaccio lo possa fare in un contesto sereno come quello di Chiavari, dove sicuramente metteremo a disposizione tutte le situazioni necessarie per dare il meglio. Ecco, Paolo Tramezzani, prima di andare in pubblicità, cosa ne pensi del mercato dell'Entela? Poi andremo ad analizzare nel dettaglio cosa sta succedendo nel Gironea per quanto riguarda il mercato. Parto soprattutto dal discorso che ha fatto anche il direttore del gruppo che è sempre fondamentale, credo, per raggiungere certi obiettivi. È un gruppo che ha colto benissimo i nuovi acquisti, si è visto da come hanno giocato, da come hanno interpretato proprio anche la loro posizione in campo e l'entusiasmo che ci hanno messo. Mi riferisco soprattutto a Torromino e a Coponi che sono stati messi in campo due domeniche fa, hanno realizzato gol già molto importanti. Lo stesso Noss ha preso dalla Propatria, un giocatore di grande esperienza, più di 200 pariti per lui. Ha esordito venerdì sera a Venezia gli ultimi 15 minuti. Quindi io sono convinto che il mercato in entrata sia stato fatto, sia per quest'anno, come dicevo prima, anche per l'anno prossimo. con loro le cose dovessero andare bene e questo è l'augurio che faccio a Matteo e alla sua società. Allora, con la notte a Tiziana Alla siamo andati a conoscere meglio proprio il bomber della Pro Vercelli, Ettore Marchi. I compagni lo chiamano giustamente bomber, eppure prima di approdare a Vercelli tanti i campi calcati, in prima e seconda divisione, in serie B, ma mai così tanti gol. Il record stagionale di Ettore Marchi sono le 11 reti realizzate a Bellaria, 2008-2009 in C2, un record destinato a cadere. La mia battuta è diventata che io non penso molto, cerco di pensare il meno possibile, anche perché sennò poi quando ci si pensa troppo, secondo me, delle cose si rischia di andare a sbagliare. Da quando sono venuto qua a Vercelli è cambiata anche la mia posizione in campo, nel senso che adesso occupo, anche secondo le direttive del mister, un ruolo più d'attaccante, da centravanti. Magari prima ero più abituato a giocare più quasi anche sugli esterni, la seconda punta, e sono riuscito a fare qualche gol in più. Seconda punta di grande generosità, tanto lavoro al servizio della squadra, queste le caratteristiche da sempre riconosciute a Marchi, cheppure gol degni di rilievo ne ha firmati. Ma nessun allenatore finora aveva intuito le sue potenzialità, se schierato in una posizione più vicina alla porta. Non lo so, perché fino a quest'anno non me lo immaginavo neanche io, di poter ricoprire questo ruolo. Poi il mister è stato bravo, ha avuto queste intuizioni, credo che ce l'avesse già da prima di quando mi hanno cercato, quindi sono stati bravi loro, poi io sono riuscito comunque sia a concludere in alcune occasioni il gran lavoro della squadra. Un ragazzo schivo che non ama mettersi in mostra, ma di grande peso nello spogliatoio. A me piace molto seguire i ragazzi più grandi, non sono uno che secondo me con lo strillo o con l'urlo non si riesce a ottenere tantissimo, però noi abbiamo tanti ragazzi, anche sopra i 30 anni, anch'io mi avvicino a quell'età che con l'esempio, anche quotidianamente, tutti i giorni dimostrano quello che deve essere un calciatore, soprattutto per i più giovani. E mi auguro che i più giovani riescano a capirlo il prima possibile. In testa un obiettivo che non nomina, eppure facilmente intuibile. Non mi dico pesca la manzia, però il mio sogno in questo momento è riuscire ad arrivare in cima con la Provercelli. Direttore Matteo Matteacci della Virtus Centella, cosa ne pensa delle dichiarazioni di Marchi? È normale che la Provercelli tenti e tenterà fino alla fine di raggiungere la prima posizione perché effettivamente la seconda dovrà affrontare una serie di partite dei play-off molto difficili. Sicuramente la Provercelli non mollerà fino alla fine di questo, sono certo, perché è una squadra solida, cinica e con la qualità di questo grande attaccante che quest'anno sta facendo cose straordinarie, quindi la Provercelli sarà presente nella volata finale fino in fondo. Noi in casa ultimamente abbiamo avuto qualche difficoltà perché ovviamente le squadre avversarie conoscono il nostro gioco, si difendono bene nel nostro metà campo e quindi sono sempre partite difficili. L'ultima gara con la Carrarese l'abbiamo disputata al meglio, abbiamo sbloccato il risultato e siamo riusciti anche a incrementare il vantaggio, sicuramente i nuovi in quell'occasione ci hanno dato qualcosa perché hanno insegnato entrambi, noi tradizionalmente in casa siamo una squadra forte, però sicuramente Lumezzano è una squadra giovane ma ben allenata, all'andata ci ha messo in grandi difficoltà, quindi ci aspetta sicuramente una gara molto difficile. Paolo Tramezzani, invece la Provercelli sarà ospite proprio della Feralpi? Tra l'altro è una squadra che secondo me nonostante sia molto giovane, è un grande allenatore, è Beppe Scienza, è riuscito a plasmare questi ragazzi, li sta facendo crescere tantissimo e non sarà assolutamente facile perché conoscendo le squadre di Scienza cercheranno comunque di dare battaglia in tutti i reparti, ma io credo che entrambe comunque possono vincere le prossime due partite, comunque teniamo presente che affrontano due squadre che caratterialmente non molano niente. La Cremonese, lo chiedo a Mario Facco, perché comunque la Cremonese è lì con 29 punti insieme al Savone, insieme allo stesso Venezia che l'Entelli ha battuto. Ha avuto una leggera flessione la Cremonese, adesso rientra, è quello che dicevo prima, diciamo in questo girono quelli che seguono le due leader della classifica non sono veramente molto distanziate, hanno un buon vantaggio, le prime due però sono abbastanza vicine, perciò sicuramente il campionato è ancora lungo, ha ragione il direttore generale Matteo a dire che tutte le partite saranno difficili. Poi essendo primi in classifica spesse volte quando vengono a giocare in casa, specialmente le squadre che sono ospite in casa dell'Entella si mettono, sono molto prudenti, molto attenti, pochi spazi, perciò certamente non mancheranno i problemi, però credo che la squadra come sta dimostrando le potrà superare. Vorrei dire comunque, secondo me qualcosa è cambiato in meglio, intanto ci sono molte squadre che difendono la zona sui calci piazzati, quindi io ho un certo miglioramento dal punto di vista dei contatti in aria, delle trattenute, penso che ci sia. Probabilmente l'input che è arrivato qualche anno fa dagli arbitri, che hanno cominciato a fischiare rigori su questo tipo di fallo, hanno avuto un buon risultato. Secondo me si gioca un po' più pulito rispetto a prima dentro l'area di rigore. Direttore, voi non avete mai avuto un espulso, giusto? No. Questo cosa vuol dire? Una politica della squadra? È una, tra virgolette, diktat di prina? No, vuol dire equilibrio sia in campo, a livello di disposizione tattica, che equilibrio mentale dei giocatori che non perdono mai la testa. Allora invece adesso volevo sapere anche dal direttore generale, poi c'è una domanda anche per lei da Fabrizio Tumbarello. Direttore, quale giocatore? Lei ha già preso guazzo da questo girone. C'è un altro giocatore che le sarebbe piaciuto portare a Lentella? Beh, non è un mistero che noi siamo stati in corsa con la Cremonese per prendere Della Rocca. Abbiamo provato, poi il giocatore ha deciso di andare a Cremona, noi ci siamo sfilati dalla trattativa quando abbiamo capito che non sarebbe stato possibile competere con la Cremonese. Però Della Rocca effettivamente è un giocatore importante che ci piaceva. I segreti per la favola Lentella sono in ordine di importanza, competenza, passione e infine soldi. Per molte società più blasonate succede spesso e volentieri il contrario, i risultati non sono sempre esaltanti. Insomma Giuseppe sembra avere le idee chiare. D'accordo lei è direttore con questo ordine di importanza, cioè prima la competenza, poi la passione, solo in ultima analisi i soldi. Sì, io metterei la coesione anche. La forza Lentella è la coesione societaria, dei suoi dirigenti e la coesione con lo staff tecnico. Sicuramente questo è un punto di forza per noi. Sicuramente, come hai detto tu, in prima divisione sono mosse subito le squadre che mirano a vincere il campionato, le altre si stanno muovendo un po' più lentamente, cercano di fare operazioni con una logica economica proiettata verso il risparmio, perché non c'è l'assillo della retrocessione. Invece in seconda divisione sicuramente sono coinvolte tutte con la formula che c'è quest'anno, quindi c'è molta tensione in seconda divisione. Il mercato rispecchia questa situazione. Il mercato rispecchia questa situazione. Grazie a tutti.